Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qua sul canale di Counter Strike Italia, io sono Iblasi e oggi sono qua per annunciarvi una collaborazione con Kinguin.it. Sul sito di Kinguin potete trovare giochi a prezzi veramente competitivi, ma potete anche acquistare delle casse per Counter Strike Global Offensive in edizione limitata. Inoltre quando andate ad acquistare un prodotto, inserendo il codice CSGOITA avrete il 3% di sconto. Inserire il codice sconto è veramente molto molto semplice. Basterà recarsi sulla pagina del prodotto che vogliamo acquistare, cliccare dunque su Acquista e come vediamo c'è uno spazio con scritto sconto e usa codice sconto. Quello che dovete fare sarà semplicemente scrivere CSGOITA nell'apposito spazio e successivamente cliccare sul più che farà applicare il coupon. Qui sul video e nella descrizione trovate i nostri referral link con i quali potete darci il vostro supporto. Vi ringrazio per la visione e alla prossima! Grazie per la visione!